Mi chiamo Paolo Cavalieri, sono candidato per l'elita centrosinistra del quartiere Santo Stefano, io lancio il mio ultimo appello elettorale a tutti gli elettori, all'elettrici e elettori del nostro quartiere per dare una possibilità al Santo Stefano di poter cambiare e di diventare un quartiere più accogliente. Noi vogliamo fare una politica veramente diversa rispetto a quella che è stata fatta dal centro-destra, che è stata una politica veramente inesistente. Abbiamo tante idee, abbiamo un gruppo che è composto da donne e uomini di tutta l'età, possiamo coprire e sapere e interpretare le esigenze di tutto quello che può essere la popolazione del nostro quartiere, pertanto vi chiedo di dare un voto alla lista di centrosinistra, di votare le candidate e le candidate, abbiamo anche la candidata Presidente che per essere eletta deve essere votata e poi vi chiedo anche di sostenere la lista del PD in comune e di votare Virginio Merola come sindaco di Bologna.